Inizia ad essere preoccupante il trend di risultati della Turis, che esce sconfitta dalla trasferta di Monopoli con il risultato di 3-1, un nuovo passo falso che avvicina in classifica proprio la compagine pugliese, ora a meno 4 dalla squadra di Torre del Greco. I tre punti ormai latitano da fin troppo tempo in casa Corallina, dove ci si aspettava sicuramente qualcosa di diverso dall'incontro di ieri pomeriggio, una partita che ha visto i Corallini fin troppo compassati e con pochi assoli dei singoli, non capaci di fare la differenza. La squadra di Fabiano paga l'approccio non impeccabile, ritrovandosi sotto di due reti all'intervallo siglate da Soleri e De Paoli. Nella ripresa la Turis cerca di mescolare le carte inserendo il neacquisto ventola e cambiando il sistema di gioco, mossa che non produce gli effetti sperati, seppur i Corallini provino ad ogni costo a riaprire la gara. Un atteggiamento sfrontato che costringe la Turis ad esporsi ai contrattacchi del Monopoli, che al 69esimo trova la rete del 3-0 chiudendo così ad ogni tentativo di rimonta. Inutile la rete di Giannone che al 74esimo prova a rimettere in piedi una partita mai seriamente in discussione per i padroni di casa. Nel finale l'espulsione di Dada Alt per doppia munizione, Tegola che va a falcidiare ulteriormente un momento di forma tutt'altro che saltante per la Turis. Continua intanto ad accorciarsi in margine di vantaggio a dispetto della zona retrocessione che dista dopo la partita di ieri 10 punti, un distacco che al momento ancora non è motivo di apprezzione, ma il digiuno di vittoria continua ad alimentarsi. Campanello d'allarme da non sottovalutare per mantenere a distanza di sicurezza i play-out. Mercoledì la sfida al Palermo.